Ciao, sono Nicolò, ho 23 anni e vivo al Collegio di Milano. Vengo da Monte Rotondo, una piccola città vicino a Roma. Studio Space Engineering al Politecnico di Milano. Ho fatto la triennale Ingegneria Aero-Spaziale e adesso mi sto specializzando in Ingegneria dello Spazio. Vivo in collegio da 4 anni. Ho scelto di vivere qui in collegio innanzitutto per l'opportunità di entrare in contatto con tanti ragazzi miei coetanei o anche di età diverse, che comunque vengono da background differenti, quindi sia diverse regioni d'Italia ma anche fuori dall'Italia, e soprattutto che stanno interprendendo dei percorsi di studio differenti in università diverse. E ritengo che questa rete di contatti che il collegio dà l'opportunità di intessere sia molto molto importante per allargare i miei orizzonti e proprio per, diciamo, vivere la vita universitaria non soltanto rinchiusa in camera a studiare ma anche facendo amicizie e godendomela al massimo. Scegliere un luogo preferito è abbastanza difficile, perché ci sono tanti luoghi ed ho avuto varie esperienze che quindi sono importanti per me. Se mi dovesse scegliere uno in particolare direi il giardino, dove c'è il campo da pallacolo e nelle belle giornate è davvero un piacere stare fuori a rilassarsi o a pranzare magari insieme ad altri miei compagni o a studiare o anche magari a fare un po' di sport. Delle varie attività culturali che ho seguito in questi quattro anni in particolare mi è piaciuto il corso di Space Economy è un corso che sto seguendo tuttora e mi è piaciuto molto perché dà una prospettiva diversa alla materia che sto studiando io perché facendo ingegneria spaziale magari mi occupo più dell'aspetto dell'ambito tecnologico delle innovazioni da quel punto di vista ma anche vedere come quello che studio poi sia applicato in altri ambiti, in altri settori e abbia quindi sia l'interesse non soltanto di ambiti ingegneristici ma anche dell'economia, management e varie discipline del genere è un qualcosa che mi piace molto e che mi dà un po' una prospettiva sul lavoro futuro sull'importanza proprio di andare a essere interdisciplinari e non soltanto occuparsi di una materia specifica Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!